Salve a tutti ed eccoci qua in questo nuovo video Oggi ragazzi è mercoledì, siamo a metà settimana circa Mancano circa 4 giorni ormai alla partita Ormai più che dentro fuori ragazzi Questa è più che decisiva tra Crottone e Cagliari Però ovviamente siamo qui a fare un altro video Non riguardante una partita ma riguardante una conferenza stampa Sono qui ad analizzare insieme a voi le parole E sono spuntate durante la conferenza stampa Della presentazione sia del nuovo mister Leonardo Semplici Ma anche del ritorno del direttore sportivo Stefano Capozucca Insieme ovviamente anche alle parole del presidente Dommaso Giulini Le notizie le sto prendendo da qui, da centrotentuno.com Che è veramente una salvezza, è veramente una sicurezza Per quanto riguarda almeno il calcio del Cagliari E partiamo subito con la domanda fatta a Leonardo Semplici In che cosa consisterà la cura del nuovo mister? Allora ragazzi, lo leggo e poi magari ve l'analizzo Allora, in questi due allenamenti ho trovato una squadra moralmente abbattuta Ma è normale dopo tante gare senza risultato Una situazione che ha significato un'involuzione rispetto alle aspettative Io voglio portare spensieratezza ma anche mentalità e cattiveria per fare l'impresa Quindi qua si parla già di impresa ragazzi Probabilmente sono tutti consci adesso che la situazione è critica Giulini se ne ha accorto, se ne ha accorta la società E quindi si è dovuto cambiare Per forza E' semplice l'ha notato da subito a quanto pare Che il clima è veramente molto molto brutto In quel di Asseminello, in quel comunque di Cagliari E quello che deve fare innanzitutto non sarà tanto un lavoro tecnico Quanto un lavoro mentale Ok? Poi andiamo subito con la seconda domanda Perché è semplice e richiamo di Capoduca Questa domanda ovviamente è fatta a Tommaso Giulini Ho scelto dopo una chiacchierata della settimana scorsa Mi ha dimostrato grande fame e grande team Questo ovviamente penso riferito a semplici Da quando l'ho incontrato il feeling è stato immediato E nonostante altri colloqui abbiamo scelto il tecnico con più fame infatti Con Capoduca ci siamo sentiti parecchio quest'anno La scelta di Francesco è arrivata anche con carta Visto che Carli era dell'idea di sposare il progetto Oliverani Ok? E infatti Carli attualmente mi sembra che sia il direttore sportivo del Parma E quindi dopo aver iniziato un progetto differente A inizio anno ora dobbiamo ripartire come se fosse un nuovo campionato E per questo abbiamo scelto anche il cambio del direttore sportivo Visto anche quanto Capoduca conosce l'ambiente Quindi ragazzi si riparte da un direttore sportivo che conosce l'ambiente E da un allenatore motivato Questo è il nuovo progetto di Giulini Anche se veramente non si può sentire È un nuovo progetto a febbraio veramente Non si può sentire secondo me Saltarelle che domande di Capoduca Perché sono più domande di circostanza Domande che sinceramente non interessano Non mi interessano particolarmente Questa è molto interessante però Domanda sempre fatta a Giulini I tifosi hanno chiesto a gran voce l'esonore di Francesco Si poteva fare prima? Una storia che è girata male con... Scusate Una storia che è girata male quella con Difra Abbiamo avuto un po' di testardaggine Cercando fino all'ultimo la scintilla Prima del Torino non avevamo mai pensato di cambiare Perché speravamo ed eravamo convinti Che tutto potesse svoltare con un risultato Dopo il Torino abbiamo ragionato anche ad altre soluzioni Non si può sbattere sempre contro un muro Se una storia ha lunghi momenti di difficoltà Quindi ragazzi Giulini non ha mai pensato Prima del Toro di esonerare di Francesco E dopo tutto ce l'aveva dimostrato Anche dopo Genova Gli ha rinnovato il contratto Però si è arrivato a un punto di non ritorno Quindi per me l'esonero ovviamente è giusto E giusto da parte di tutti E giusto anche l'esonero probabilmente del territorio sportivo A questo punto che Alla fine sono sempre loro che ci ripagano Non è quasi mai il presidente Ma è il mister E il direttore sportivo Questi sono sempre i primi Che vengono cambiati Durante una situazione di crisi Di qualsiasi club Si tratti Che sia il Cagliari Che sia il Real Madrid O qualunque altro Grandissimo club europeo Quindi poi semplici Quali sono i punti forti e deboli di questo Cagliari I punti di forza di questa rosa sono tanti Ci sono dei valori alti Che purtroppo non hanno ancora dimostrato La chiamata del Cagliari l'ho accettata subito Per le parole che il presidente e il DS hanno spesso per me Ma anche per la storia di questa città e questa piazza Classica parola di circostanza Mi auguro insieme al vecchio staff E al mio staff Di portare una ventata di entusiasmo Quindi lui ha accettato subito Gli iniziati ricordiamolo erano tanti C'era Donadoni che ha rifiutato Per dei motivi comunque Di progetto comunque Ha rifiutato perché Se l'avessero chiamato a gennaio Quanto pare Donadoni sarebbe anche venuto Però a febbraio Si sarebbe dovuto fare un altro lavoro Che Donadoni non ha accettato Ha accettato semplici Non l'ha accettata neanche A quanto pare si sarebbe sondato anche Rastelli Maran Zenga Tantissimi tanti allenatori Anche Andrazzoli Tantissimi allenatori L'unico che ha voluto accettare Tutte Tutte le come dire Le opzioni Offerte da Giuliani È stato appunto semplici Che Dice Che il Cagliari Dopotutto C'ha una rosa di alti valori E effettivamente è così Secondo me Anche secondo me Il Cagliari C'ha una squadra Che almeno il decimo posto Lo potrebbe tranquillamente raggiungere Perché squadre come il Benevento Squadre come lo Spezia Squadre come Anche la stessa Fiorentina Secondo me In questo momento Sono Inferiori a noi Il Cagliari le potrebbe tranquillamente battere Il problema è che sul campo Non l'abbiamo dimostrato Andiamo avanti Ecco qua L'impresa salvezza Al primo anno con la SPAL Su cosa si lavora Come una squadra In questa posizione? Pesa sempre L'aspetto della testa Ho rivisto alcune gare E ho rivisto E ho visto una squadra Che sembrava Giocare con il freno A mano tirato Ma non è per colpa Di Francesco Che è un grande tecnico E che stimo e saluto L'aspetto da curare L'aspetto da curare Ora sarà mentale Dobbiamo avere Un approccio diverso Di quello visto Fino ad ora Ovviamente lui Non può parlare male Di Francesco Mi sembra anche giusto Che non vada a parlare male Di un suo Tra un ricordato Collega Però Probabilmente Questo freno a mano tirato È dato anche Da Di Francesco Un po' Non può essere Soltanto un aspetto mentale Rispetto ai risultati C'è anche la mano del mister Che probabilmente Non è riuscito A compattare Il gruppo Non è riuscito A diffondere Le proprie idee E quindi Si è arrivato A questa situazione Semplice appunto Adesso a questo compito Di Di dare Soprattutto Una ventata D'aria fresca Al morale Al Al concetto Soprattutto A questa Dovrà lavorare Non tanto sui piedi O sugli aspetti Tecnici Tattici Tanto Sul Aspetto mentale Giolini Eccolo qua Cosa è cambiato Con Di Francesco Rispetto al rinnovo Di Genova Ho cambiato idea Per le successive Quattro partite Specie quella Con il Sassuolo Dove abbiamo avuto Le nostre occasioni Ma dove non abbiamo Mai segnato Quando non fai gol Poi perdi nel calcio Quando Scusate Ho sbagliato l'intonazione Quando non fai gol Poi perdi nel calcio Ho visto quattro partite Sempre con lo stesso Allone di negatività Il cambio di panchina Lo avrei fatto anche prima Se il Torino Non fosse stato Di venerdì sera Perché a un certo punto Per svoltare Bisogna provarci In tutti i modi E quindi Andavano fatto una scelta Una scelta diversa Rispetto a quella Di Genova Quindi ragazzi Lui Almeno Giolini Ma penso anche Il resto della società Ha visto una squadra Da sempre Un po' in difficoltà Sempre un po' Diciamo Vittima di questa Tra le ricordate Sfortuna Che lui non vuole Chiamare sfortuna La chiama Negatività Però giustamente L'ha notato anche lui Quando non fa i gol Le partite le perdi E le ultime quattro Ragazzi Sono partite In cui il Cagliari Poteva tranquillamente Segnare Anche la partita Contro la Lazio Che sembrava La più difficile Comunque La non abbiamo giocata male Almeno da un punto di vista Tecnico L'atteggiamento c'era Però il gol Non è arrivato E quando non arriva il gol Le partite le perdi O al massimo le pareggi Quindi E non le abbiamo pareggiate molte Questa In questo campionato Semplice Qua c'è subito Una domanda Tattica Doppia punta E che spazio Per Raja? Voglio dare poche indicazioni Ma precise Come modulo Continueremo sulla falsariga Di quello già visto Nelle ultime settimane Ci saranno le mie idee Ma non credo Alle evoluzioni Ho una rosa di grande valore Ma non credo Che il posizionamento Di un singolo giocatore Possa cambiare il risultato finale Ho trovato Grande disponibilità Da parte dei ragazzi Ho chiesto loro Di migliorarsi Per quanto cammino Per quanto Per questo cammino in salita Quindi ragazzi Alla fine Penso che continueremo Con il Classico 3-5-2 Modulo che ha contraddistinto Le ultime giornate E che sinceramente Stava dando Un po' Qualcosa Alla fine Almeno da un punto di vista Tattico I giocatori Sembrano trovarsi Un po' meglio Dopo Gli faranno anche La domanda Su Nandez E questa sarà Molto interessante Perché lui non dà Delle dichiarazioni Diciamo Ferme Sulla questione Però comunque Ci dà degli spunti Interessanti Non dà ovviamente Ancora degli spunti Per quanto riguarda Doppia punta Ora Alla posizione Di Nainggolan Però comunque Lui cercherà In qualche modo Di mettere Nella posizione Migliore Tutti quanti I giocatori Come giusto che sia Almeno Cercherà di mettere In condizione Tutti quanti Per rendere al meglio Ecco E questa è la cosa Più giusta Secondo me Cercherà di venire Spero Spero Io almeno Spero che Cercherà di venire Incontro molto I giocatori Piuttosto che A fare come Di Francesco E provare Un modulo Che non puoi Fare Perché il 4-3-3 Non lo potevi fare Di fra Saltiamo questa domanda Si sente un normalizzatore Vabbè Lasciamo perdere Eccolo qua Questo è interessante Le zone di di Francesco Toglie anche l'alibi Al gruppo I giocatori Non hanno mai Avuto alibi Questo è il mio Sesto anno in Serie A E per me È la rosa Più forte Che ho mai avuto Ma Detto questo È quella che sta facendo Meno bene in assoluto Indipendentemente Dall'allenatore Ma sono convinto Che il gruppo Abbia dei forti valori umani Non ho l'impressione Che cerchino scuse Beh Anche a me Sembra che non cerchino scuse Il problema è che Ragazzi Secondo me Il problema Non è tanto Un alibi Quanto La spaccatura Che si è formata Nello spogliatoio Del Cagliari Del Cagliari Secondo me Perché Di Francesco Rimavo da una parte E i senatori Dall'altra Come avevo detto Nell'altro video Secondo me A una certa Giocatori come Joao Pedro Angolan E comunque I giocatori Più rappresentativi Di questa squadra Hanno formato Una specie di gruppo E sono andati Un po' contro Le idee di Francesco Lasciando in mezzo Diciamo I giocatori Un po' più Meno Un po' meno Come dire Rappresentativi E meno Di carisma Come potrebbero essere Gli stessi giovani Possono essere Carboni Zappa Sottil Possono essere Magari anche Non lo so Tramoni Volochievici O comunque Giocatori giovani Che devono avere Sicurezza E soprattutto Devono avere Una Situazione di tranquillità All'interno Della Del campionato in generale Dello sbogliatoio E questi Non sono alibi Ma sono più che altro Problemi Negli sbogliatoi Che devono essere risolti Adersi in questo momento Da semplici Purtroppo Non solo da semplici Ovviamente Anche dalla Dalla società In generale Eccola qua La domanda tattica Nell'Andez Può fare anche Il quinto Nel 3-5-2 C'è uno Alla schiattarella Alla spalla Vabbè Questo Insomma Nathan può giocare In più soluzioni Ha grande intelligenza E sto valutando Vari aspetti Vedremo da qui A sabato Quando avrò le idee Con i 5 cami Possiamo intervenire Anche tanto Tanto anche A gara in corso Ma mi auguro Che questo non accada Non c'è Uno simile a schiattarella O più giocatori di gamba Lui Lui ha fatto Un altro tipo di percorso Quindi ragazzi Su Nandez Ovviamente Non si Non si sbilancia Può giocare Lo sappiamo benissimo Noi Con Zenga Ha fatto spesso L'esterno a tutta fascia Nella difesa 3 Può valutare Tranquillamente Di metterlo in quel ruolo Può metterlo Tranquillamente Mezzana Anche se secondo me Personalmente Nandez Usato come centrocampista In un centrocampo a 2 È sprecatissimo Perché fare quel lavoro Di interdizione Sì Lo sa fare benissimo Ma è sprecato Nandez Ricaduta sulla voglia E la fame Abbastanza Abbastanza Comunque Penso che anche Lo stesso Andreazzoli Sarebbe partito Con la difesa 3 Non addoni Penso anche lui Anche lo stesso Zenga Anche lo stesso Rastelli Sarebbe partito Con la difesa 3 Anche se Rastelli Spesso Faceva ovviamente Il modulo 4-3-1-2 Faceva il rombo A centrocampo Ma il 3-5-2 L'abbiamo visto Anche con Rastelli Spesso Poi vabbè Qua ci sono altre domande Gestione di carta E bla bla Quindi ragazzi Questa è più o meno La conferenza La parte importante Diciamo Dalla conferenza Poi ci sono altre domande Sulle avventure di semplici Anche perché ha giocato A Sorso Che è una squadra Diciamo Della Sardegna Quindi comunque Ho avuto un'esperienza Qui Io mi auguro Fortemente Che questo allenatore Possa dare veramente Un'impronta Un'impronta Di sé Alla squadra Un'impronta positiva Un'impronta Soprattutto formata Sul gruppo Secondo me Veramente Il Cagliari Passato Non ha avuto Grandissimi Non ha avuto Grandissimi Allenatori Da un punto di vista Ovviamente Tecnico Che infondesse Diciamo Una grande tattica Alla squadra Lo stesso Rastelli Lo stesso Zenga Maran Non sono grandi allenatori Che diffondono Grande tattica Alla propria squadra Secondo me O comunque Un grande gioco Spumeggiante Molto offensivo Sono allenatori Però Che Con cui è sempre Fuoriuscito Un grande gruppo Il Cagliari Secondo me Un gruppo Ce l'aveva molto Prima di mandare via I Sardi Prima di mandare via Comunque I grandissimi Senatori Cosso Ovviamente Il primo Tra tutti Ma anche Lo stesso Sau Cioè Sono comunque Giocatori che Difondevano tanto Il volere bene A questa maglia E l'onorarla A questa maglia Purtroppo Si è andata un po' A perdere Anche lo stesso Diego Lopez Che io ho un ricordo Bruttissimo Di quella stagione Ma Diego Lopez Aveva fatto Diciamo Aveva costruito Quella salvezza Sul gruppo Sul Veramente Sul combattere Di gruppo Sul combattere Di squadra E anche se Il gioco non usciva Perché era un gioco Veramente terribile Quello di Di Lopez Ce l'avevamo salvati Così Con Con la voglia Con Con Veramente Una Una tenaccia Non da poco Quindi Quindi non lo so ragazzi Di Francesco Non è riuscito A fare questo Non è riuscito A compattare il gruppo Si i giocatori Sono cambiati tanto Semplice Adesso ha un lavoro Veramente difficile Secondo me Semplice Non ha un lavoro facile Assolutamente E Gli aspetta un lavoro Come ha detto lui Appunto Più mentale Che tattico I concetti Devono essere pochi Devono essere Chiari E lui deve Difondere un'idea Di calcio Fondata Poi che altro Su concetti Come dice il suo cognome Semplici Quindi ragazzi Dobbiamo aspettarci Non so cosa ci potremmo aspettare domenica Potremmo aspettarci Un grande Cagliari Già da subito Potremmo aspettarci Un Cagliari un po' Come dire Ancora un po' Fuscato Dall'idea Non saprei Non saprei nemmeno Darvi un pronostico Rispetto alla partita Io Per il momento Non mi sbilancio Però Vi posso dire che L'impresa Chiamare l'impresa Questa È lecito Perché sono già 5 punti Che ci separano Dal 17 Quello che dobbiamo fare È avere fortuna E soprattutto Avere tanta 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 Continuità Bisogna Adesso ragazzi Non ci sono più Partite semplici Sono finite Le partite semplici Adesso ci aspetta Il Crotone Che non sarà una partita facile Ci aspetta Il Bologna in casa Ci sarà la Sampdoria In trasferta Poi ci sarà la Juventus Mi sembra di nuovo in casa Ragazzi Non sono semplici Per alcune partite Affrontiamo squadre Squadre toste Che hanno fatto Senza dubbio Proprio punti di noi Noi dobbiamo essere bravi A A capire veramente Che questa situazione Non Non è bella E quindi Dobbiamo fare bene Con questa vi saluto Vi mando Un abbraccio Buon mercoledì a tutti Buon proseguo di mercoledì a tutti Forza Cazzo di tu sempre E ciao ciao